cari amici ciao a tutti oggi in copertina abbiamo simone biles per chi non la conosce è una delle più grandi ginnaste probabilmente di tutti i tempi della squadra americana super medagliata in tre differenti olimpiadi da rio de janeiro a tokyo all'ultima quella di parigi ma allora che c'entra una ginnasta e le olimpiadi con l'aviazione e con i piloti c'entra e come e fra poco lo scopriremo perché oggi andremo a parlare della salute mentale che non ha nulla a che vedere con l'essere pazzi assolutamente è una cosa molto molto importante ovviamente che ha a che vedere con tutti quante le persone chiaramente non soltanto con i piloti non soltanto con gli atleti però mio è un canale di aviazione quindi parleremo della salute mentale che ha a che fare con l'aviazione però tornando a simone biles vi voglio raccontare un po la sua storia in molto in poche parole insomma ovviamente vi invito a approfondire a vedere un documentario molto bello che trovate su netflix tra l'altro perché simone biles è un atleta bravissima spettacolare talentuosa ovviamente in uno sport molto molto impegnativo dove bisogna allenarsi tantissimo fare tantissimi sacrifici e nell'olimpiade di rio de janeiro del 2016 ha vinto tantissime medaglie per cui nell'olimpiade successiva quella di tokyo di qualche anno successivamente di quattro anni dopo ci si aspettava chiaramente che la simone biles avrebbe dominato avrebbe vinto tutte quante le medaglie era la persona da battere ma diciamo che non ce n'era per nessuno ovviamente considerando il suo trascorso non solo la la passata edizione delle olimpiade ma anche gli anni successivi con i mondiali e tutte quante le gare a cui ha partecipato se non che quando poi è arrivata l'olimpiade di tokyo alle prime gare alle prime competizioni si è visto subito che c'era qualche problema simone biles ha cominciato a commettere degli errori molto stupidi per quel livello chiaramente molto basilari su esercizi molto semplici diciamo dal punto che a un punto ha deciso addirittura di ritirarsi dalla competizione pensate un po quindi immaginate per un atleta cosa significa dopo quattro anni di allenamenti di sacrifici arrivare all'olimpiade che è la massima espressione dello sport che puoi avere un atleta e decide di ritirarsi ovviamente si è tirata dietro tantissime critiche chiaramente poi oggi con i social potete immaginare perché c'è chi l'ha definita finita la sua carriera è finita aveva soltanto vinto un olimpiade l'ha tradito la squadra americana andando via in realtà evidentemente c'era qualcos'altro che non è emerso subito però la simone biles evidentemente aveva tutta una serie di problemi che poi evidentemente ha affrontato e infatti negli anni successivi non solo è ritornata a rialenarsi è ritornata a vincere è ritornata all'olimpiade di parigi è quella che è finita pochi giorni fa dove è tornata ad essere la grande campionessa che è stata in passato e ha postato proprio in questa olimpiade il post di cui appunto vi sto facendo vedere questa immagine in cui dice mental health matters quindi la salute mentale è importante è fondamentale è determinante e cosa era successo ovviamente appunto qualche problema che aveva ora non si sa bene sono cose suoi personali e quindi se le tiene lei giustamente ma è ovvio che qualcosa era successo per cui di fatto il suo cervello in qualche modo si è disconnesso dal suo corpo e quindi non riusciva più nonostante l'allenamento il talento la bravura e tutto quanto a competere a riuscire a performare ai suoi livelli standard ora io non sono un medico e quindi non voglio affrontare il discorso della salute mentale dal punto di vista medico anzi mi auguro che ci sia qualcuno competente che possa stare ad ascoltare questo video e quindi magari aggiungere approfondimenti importanti tra i commenti in modo che tutti quanti noi io per primo possiamo imparare ancora di più dal punto di vista medico però dal punto di vista diciamo così operativo io lo voglio guardare da questo punto di vista perché è importante la salute mentale perché vedete se un atleta si rompe la gamba è evidente si ha rotto la gamba ecco perché non può competere ma la salute mentale in realtà è sempre stata un po' diciamo considerata forse nel modo sbagliato o non considerata affatto stesso a scuola quando già alle elementari alle medie tanti ragazzini che vengono considerati sbogliati il tipico ragazzino che è bravo è intelligente ma non si applica quelli che magari vengono anche derisi sono stupidi invece magari non ci si accorge che ci sono magari dei problemi familiari molto gravi delle problematiche che appunto hanno a che fare poi con la salute mentale perché in un ambiente familiare poco sano anche lì il cervello ovviamente non può focalizzare non può restare focalizzato anche a delle nozioni elementari come possono essere i primi anni di scuola e quindi si confonde spesso quella che è invece un problema appunto di disconnessione mentale di salute mentale con altre motivazioni e perché poi appunto dalla dallo sport dalla scuola arriviamo all'aviazione perché chiaramente anche un pilota deve avere fondamentalmente una salute mentale perfetta per poter ovviamente lavorare nella maniera più sana e sicura possibile l'apice della problematica della salute mentale e l'abbiamo vista anni fa con il famoso incidente della german wings dove lì è stato proprio la punta dell'iceberg di una problematica gigantesca perché abbiamo avuto il massimo della drammaticità con questo ragazzo che purtroppo ha voluto farla finita suicidandosi e portandosi dietro un aeroplano e tutti quanti i passeggeri insomma tra l'altro vi consiglio questo libro scritto dal comandante Chialastri che analizza tutto quanto questo fenomeno in maniera molto dettagliata e lo consiglio perché è un ottimo libro non sa neanche che ne sto parlando ma non è pubblicità questa io quando vi consiglio qualcosa è perché io per primo valuto il prodotto eccezionale insomma i libri di cui vi parlo spesso insomma ecco però appunto senza arrivare poi a questi livelli di drammaticità nella vita di tutti i giorni purtroppo la vita è dura per tutti chi più chi meno per fortuna magari altri un po' meno e ci sono delle vicissitudini che hanno influenze poi appunto nella salute mentale la salute dei propri cari anche la morte di un parente un divorzio problematiche economiche traslochi possono essere infiniti le problematiche che poi hanno influenza nella psiche di un pilota ma di qualsiasi lavoratore chiaramente in modo tale da poi ridurre le performance in maniera a volte eccessiva ora non è che io voglio fare una scala tra professioni più o meno importanti è chiaro che in un mondo perfetto tutti quanti dovremmo essere sani fisicamente e di mente però va da sé che un lavoro dove si ha la responsabilità della vita di tantissime altre persone è chiaro che bisognerebbe stare un po' più attenti a manutare che chi ha questa responsabilità stia al lavoro in maniera tranquilla rilassata al massimo delle sue facoltà appunto mentale ora a parte vicissitudini appunto di vita che purtroppo c'è poco da fare possono capitare a tutti quanti quello di cui vorrei parlare in maniera più approfondita oggi sono quelle interferenze chiamiamole così nella salute mentale che sono purtroppo causate dal lavoro stesso dalla disorganizzazione del del lavoro da alcune compagnie in cui come si dice si parla tanto bene ma poi si razzola male come c'è un detto no perché si parla tanto di sicurezza di salute mentale le asa ci fa fare un corso ogni anno di salute mentale un corso che dura un paio d'ore di un video in cui ci dice e dovete dormire bene e dovete stare tranquilli e dovete mangiare bene poi vai al lavoro e hai turni che cambiano continuamente ritardi mostruosi che non solo danno fastidio ai passeggeri ma anche ai ai peloti stessi perché ci sono situazioni in cui tu vai al lavoro e non sai mai quando torni non sai neanche quando in quale giorno torni problematiche anche proprio di incertezza del lavoro stesso contratti stagionali compagnie multibase per cui non sai mai dove vai a finire in queste basi cambi improvvisi senza magari averlo chiesto per non parlare del pay to fly no quindi questa cosa mostruosa che è nata tanti anni fa in cui il pilota deve pagare i brevetti deve pagare le ore di volo deve pagare tutto per cui quando inizi a lavorare già hai un mutuo sulle tue spalle per i prossimi cinque sei sette anni con stipendi di entrata ridotti per cui alla fine è chiaro che l'andare al lavoro già col pensiero che non ce la fai ad arrivare a fine mese già col pensiero di oddio magari ho delle cose da fare magari devo portare mia mamma in ospedale devo portare mia moglie bambini a scuola qualsiasi cosa e non sai mai quando torni tutte queste problematiche purtroppo hanno un'influenza gigantesca poi appunto sulla salute mentale dei piloti e io stesso tanti anni fa magari un giorno ve lo racconto in maniera più approfondita ho vissuto personalmente che cosa significa proprio la disconnessione del cervello dal tuo mondo reale perché quando nel 2000 entrai in alitalia pensate un po abbiamo iniziato il corso iniziato il corso grano iniziato il corso poi di volo e ho avuto tutta una serie di problemi familiari di cui magari un giorno quando divento vecchio ti racconto meglio adesso lasciamo perdere però insomma è così come appunto la biles evidentemente ho avuto dei problemi per cui avevo la testa chiaramente sempre sempre occupata non riuscivo a focalizzarmi nella parte finale di questo corso sulle md 80 che già era difficile di per sé e poi io appunto non non ero lì molto molto attento e focalizzato in quella situazione in cui appunto la persona ti deve dire ma sei stupido no ma perché non ti concentri perché non ti focalizzi non puoi sei in una situazione in cui non riesci neanche a capire cosa sta succedendo ed è lì che hai bisogno di un aiuto esterno e la bile stessa lo racconta in questo video in questo documentario che è in televisione e lei stessa si è fatta aiutare dal tipico da quello bravo devi vedere uno bravo ora io quello che vorrei dire un po tutto anche uno dei messaggi molto vorrei dire che non è sempre necessario andare dal psicologo fare terapie a volte basta la persona giusta al momento giusto il collega l'amico come nel mio caso per esempio pensate un po io come mi sono sbloccato da quella situazione in cui non riuscivo a scendere fuori perché stavo era un momento in cui pensate un po pensavo di stare fallendo il corso dico adesso non riesco più a volare non riesco più a capire cosa sto facendo per aria e un giorno ero davanti al briefing appunto dell'alitalia dove appunto gli equipaggi si formano e incontrai un mio istruttore dell'aeronautica militare era entrato poi nell'italia a un certo punto ci siamo incontrati lui mi ha visto capito subito che c'era qualcosa che non andava ma che è successo e io gli ho spiegato io non so che sta succedendo non riesco più a volare riesco più a pilotare non riesco a capire più niente e lui come mi ha aiutato pur non essendo uno psicologo appunto e lui mi ha detto scusa ma tu hai fatto il corso a latina no? e dicevo eh certo ci siamo incontrati lì no? era facile quel corso e faccio eh no accidenti era forse anche più difficile di questo allora come lo hai superato? no lo hai superato no? quindi evidentemente le risorse ce le hai allora mi ha fatto focalizzare la mia attenzione su proprio tutto ciò che di buono avevo fatto già in passato quindi io il mio cervello a un certo punto ha fatto una specie di reset no? ha cercato di di tirar fuori quegli elementi positivi che già mi avevano aiutato in passato che io sono riuscito a rimettere un po' in ordine mi ha ridato soprattutto fiducia in me stesso che è la cosa principale la cosa fondamentale perché in queste situazioni di malessere mentale tu perdi proprio fiducia in te stesso pensi che non ce la puoi fare che sei finito che hai perso tutte le tue capacità e lui invece è riuscito a farmi ritirare fuori questa fiducia mi ha fatto creare un più ordine in testa mi ha anche dato tre numeri proprio di performance della discesa che poi sono quei tre numeri che io spiego nel tutorial della discesa allora tu a questa quota devi stare a questa distanza questa spielocità questa allora anche lì a questi tre numeri sulla performance di discesa dell'aeroplano già mi hanno anche dato un appiglio fisico dove tu alleggerisci la tua mente dai calcoli per tu sai cosa devi fare quando lo devi fare e quindi a me è bastato pensate un po' questa chiacchierata con questa persona che ho incontrato nel momento giusto la persona giusta e già il giorno dopo ero un altro pilota e poi ho continuato il corso finendolo brillantemente insomma ho finito in maniera normale senza brillare però poi piano piano ho continuato la mia carriera e chissà se quel giorno non avessi incontrato lui chissà oggi dove sarei quindi il messaggio che voglio dare è che può essere normale purtroppo avere vari tipi di problematiche non ci nascondiamo facciamoci aiutare se la situazione non è grave a volte ripeto bastano amici basta il collega ma basta però è importante parlare è importante cercare qualcuno che ci possa aiutare chiaro che nei casi più gravi è necessario andare dallo specialista che ovviamente è il lavoro suo ognuno deve fare lavoro suo ovviamente quindi potrà avere tutti i metodi più scientifici più professionali per aiutarci però anche un altro messaggio è proprio quello alle autorità le organizzazioni alle compagnie aeree ai manager che a volte siete proprio voi che create queste problematiche non per nulla io non smetterò mai di dirlo che la normativa del flight a limitation per esempio no la normativa dell'impiego del personale navigante secondo me è mostruosa ho fatto anche un video dove vi spiego le varie tabelle dove appunto due piloti possono volare per 14 ore di fila senza sosta senza mangiare senza riposarsi un secondo finite queste 14 ore hai un minimo un riposo minimo poi riparti ancora voli di notte poi voli di giorno poi cambi turni poi tutto qua non si sa poi che succede la settimana dopo è chiaro che se tutta la turnazione del lavoro tutta la gestione dei voli non è stabile e non dà sicurezza non dà il modo al pilota all'assistente di volo al navigante in generale di avere una vita pianificata è chiaro che le incertezze crescono le problematiche familiari crescono e quindi la salute mentale va a farsi benedire quindi io ringrazio la simona biles per questa ispirazione tra l'altro la ammino tantissimo per quello che fa e per come l'esempio che ci ha dato nel risolvere le sue problematiche per ritornare la grande atleta che è stata per appunto lanciare questo messaggio a tutti quanti alle istituzioni compagnie e proprio ai colleghi a tutti quanti noi e non solo appunto piloti qualsiasi professione svolgiate di non avere mai il timore la vergogna di parlare con qualcuno per farci aiutare e per superare ogni tipo di problematica perché le problematiche fisiche per assurdo sono più facili perché sono più evidenti perché si va dal dottore o una ferita o un problema e le anni massima chiaro insomma parte certi tipi di malattie insomma si può superare però ecco appunto le problematiche di salute mentale sono sempre un po nascoste sempre più difficile da evidenziare ok quindi state sani di fisico e di mente e voliamo tutti tranquilli e sereni e buona fine estate che manca poco oggi tra un po' sta diluviando finalmente un po' d'acqua e magari rinfresca anche un po' così anche la salute mentale ci aiuta a stare un po' meglio ciao a presto grazie